buongiorno a tutti e benvenuti nella rubrica caffè e mercati oggi giorno di festa giovedì 8 dicembre nonostante tutto i mercati oggi sono aperti e quindi noi di investire punto biz lavoriamo e quest'oggi andremo a vedere un'operazione sul loro siccome appunto in questa fase finale di anno come ben già anche ripetuto la scorsa settimana loro potrebbe e come anche altri asset nel nel settore delle commodity potrebbero sovra performare il mercato il petrolio sta scendendo notevolmente mentre loro potrebbe praticamente o per muoversi in maniera non correlata al petrolio quindi far movimento uno movimento più che altro non correlato opposto e quindi sicuramente c'è c'è buono spazio prima di ciò vi faccio vedere il grandissimo evento che abbiamo programmato per mercoledì 14 dicembre ovvero la scalping live con giancarlo prisco ci sono degli sconti attivi potete basta che appunto contattate il team di investire punto biz per richiedere eventuali sconti eventuali approfondimenti davvero ve lo dico da due tre giorni è un evento fatto alle sera con il discorso della fed quindi oltre che ad operare e potenzialmente fare profitto vedete proprio un trader all'opera quando c'è un evento di mercato che quindi poi in base a quello si potrebbe anche replicare poi su altri in altri momenti quindi sia che essere un appuntamento di guadagno tra virgolette può essere anche un appuntamento formativo e per il prezzo che si va a spendere sicuramente molto interessante detto ciò passiamo al grafico di kimura trading vediamo subito quella che è l'operazione sul gold e di che cosa sto parlando vediamo appunto che il gold ha toccato la resistenza resistenziale di 1800 ed è venuto giù in maniera abbastanza brusca è venuto giù ritoccando il livello dei 1770 livello in cui comunque avevamo trovato già resistenza avevamo trovato un massimo precedente praticamente a metà novembre il fatto che comunque abbia si sia spinto fino a questo livello per poi piano piano di rigirarsi può far indirizzare verso nuovi massimi crescenti come avevamo già detto anche la scorsa settimana finché non viene infranto questo livello qui quindi dei 1740 ma poi anche i 1700 rimaniamo comunque con una struttura rialzista e siccome ci sono c'è un dollaro che sempre più debole c'è molta incertezza sia sul dollaro che il comparto azionario comunque dei titoli americani quant'altro il do il euro scusate il loro sta diventando una un asset che gli investitori scelgono per proteggersi da un eventuale ribasso del dollaro e anche da una svalutazione del 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 mercato azionario quindi degli indici tra l'altro il dollaro stagionalmente in questa fase conclusiva di mercato e tutta la prima parte del del nuovo anno di solito performa molto bene a rialzo quindi ci sono più pianeti allineati se facciamo riferimento all'astrologia ma di astrologia noi qua non trattiamo comunque abbiamo sicuramente un'ottima un'ottima impostazione abbiamo più dati tecnici a nostro supporto che ci da alimentano questa operazione rialzista vediamo su time frame ad h1 beh allora il 1787 dovessimo riuscire a superare questo livello qui abbiamo uno spazio rialzista per arrivare di nuovo ai 1800 qua io prenderei una parte dei profitti per poi farli correre verso più l'alto nel caso appunto non dovessimo avere la spinta rialzista potiamo aspettare il prezzo che magari vada qui vada a ricreare un breakout channel in prossimità di questo livello e poi piano piano torni a salire quindi praticamente andremo ad operare sulla rottura di questo livello qui questa è un po la mia idea e oggi ovviamente è festa di festa più che altro in europa non tanto in in america quindi sicuramente ci possono essere movimenti non dovesse verificarsi quest'oggi potenzialmente si può verificare domani comunque rimane un'ottima un'ottima operazione da da monitorare ragazzi io vi ringrazio per l'ascolto vi invito appunto a seguirci ci vediamo domani con il consueto appuntamento e per il resto vi auguro una buona festa e un buon trading a tutti ciao ciao